questo è il mio paese ciao raga benvenuti in questo video sono acqua xrex per voi raga prima di continuare con questo video che parliamo del nostro grande milan vi devo dare una premessa per prima cosa ragazzi evitate di iscrivermi ma quando fai la reazione eccetera eccetera ok questa non è una reazione questo è bensì solo una mia opinione come milanista allora io che mi che mi sono detto mi sono detto che mi devo creare un coso dire un un nome della tipologia di video lo so che nei diciamo nella descrizione c'è scritto talento ma in realtà era solo tra virgolette in realtà diciamo il nome del format che porto e quindi io mi sono detto scriviamo così opinionista milanista prima di tutto perché sono milanista perché io ho fatto il tipo in milan anche se devo essere sincero sono di salerno infatti vivo nella provincia di salerno poi sono poi nato alla provincia di salerno infatti sono nato a battipaglia però vivo a modegovino rovella sempre provincia di salerno come minimo dovrei tifare la salernitana anche se devo essere sincero io ho una grande simpatia ma il fatto che io tifo in milan dovete capire che ogni tifoso del calcio o anche altri sport ognuno ti fa quello che vuole anche se non è della sua città e questa è la cosa più bella del mondo questo che voglio farvi capire allora poi dicevo per riguardo invece il nome della tipologia perché ho dato opinionista milanista perché io non parlo solo durante diciamo diciamo le gare disputate fatti a al milan ma io parlo anche del caccio mercato sempre del milan cioè io parlo di tutto e di più quello che succede io ne parlo ok e questa è la cosa che voglio dirvi quindi ragazzi evitate scrivere quando fai reazione reazione no non si chiama reazione la reazione sapete quanto è la reazione si fa così io per esempio guardo la diretta diciamo del milan durante la partita e poi ci vado a commentare addirittura da sopra ma quello che faccio io non è così perché io la mia opinione lo dico dopo dopo la partita ok o partite in caso in cui sono rimasto al retrato come in questo video qua infatti sono al retrato di una partita in europa league è un'altra invece in campionato con il crotone allora adesso parliamo e vedere due partite che alla quale non ho parlato prima adesso invece nel palero allora per prima di tutto dobbiamo recuperare la partita contro il bodo allora sulla parte in quella partita alla ragazzi c'è in europa league che da sa era i premi lilari non era i gironi più che altro vabbè io mi sono un po confuso vabbè comunque sia io già in quella partita avevo una paura una paura tremenda 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 perché dico questo perché i brevi moichio purtroppo ha dato forfè per via del copite che purtroppo il copito lo prendono tutti quanti e mi dispiace io però non mi aspettavo che l'avesse preso proprio i bravi moichio perché io pensavo a bere i brevi moichio non penso che se lo prende perché rispetta diciamo come posso dire diciamo le leggi e tutto il resto no invece no proprio i bravi moichio se l'ha preso e non so come come non si sa io spero io spero che ritorni presso vabbè io ho già in questa partita fa lasciando che il bai moichio è assente io ho già avevo una paura assurda perché io sono andato a informare su questa squadra e non ha perso per nove mesi nove mesi penso nove mesi adesso non mi ricordo quanti mesi non ha perso questa squadra io ho già avevo la paura addosso avevo la paura addosso però io per seguire questa partita siccome io diciamo non avevo metodi diciamo di vedere questa partita non faceva vedere neanche in televisione diciamo che avevo visto solo tramite e diretta che fa vedere solo i risultati però fa vedere anche con quali sono stato solo stare tutte eccetera devo essere onesto mamma mia una bellissima vittoria però sofferta 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 perché per poco il milano poteva anche subire il gol del 33 per poco ma per poco per poco anche se in realtà il secondo gol che l'ha fatto auge auge non mi ricordo come si pronuncia quel giocatore che tra l'altro e anche diciamo anche su calciomercato che poi dopo ne ripallo comunque questo giocatore cioè ha fatto il secondo gol anche se la è stato diciamo una bruttezza da parte di gabbia se non vado errato adesso non mi ricordo perché questo aveva detto sic world mi sono dovuto informare anche su questo punto di vista comunque fatto sta che noi abbiamo vinto non ci non ci interessa molto a riguardo a ciò e questa è la cosa comunque io spero che in bagno deve ritornare per forza perché perché se in bagno c'è il bagno c'è ancora assente noi rischiamo veramente parecchio noi rischiamo ancora parecchio comunque invece la partita che ho seguito un po di più invece quella contro il crotone sapevo benissimo che il milan l'avesse vinta facilmente anche quando questa squadra che infatti questa squadra non c'è non ne ha reagito proprio in che in senso che ha che in granché vabbè il primo gol l'ha fatto che si è il calcio di rigore e poi il secondo collo l'ha fatto brahim diaz brahim diaz noi brahim i brahim diaz brahim diaz scusatemi comunque questo almeno questo mi sono fatto un grande applauso un grande applauso vabbè questa mattina però l'ho seguito invece tramite radio perché le partite del campionato io così me la sento tramite radio e così saprò già tutta la situazione vabbè comunque il milan diciamo non ha rischiato un gran che nulla nulla di stupefacente ma niente che è meno male quindi ci siamo trovati due vittorie consecutive prime in europa league e poi anche in crotone anche se in realtà però in totale per pioli solo 17 vittorie c'è dal ritorno del campionato pre cobit c'è fino adesso sono 17 17 vittorie di fila c'è imbattuto imbattuto quindi pioli supera il record di arcellotti cioè vedete io sono rimasto stupito sono rimasto stupito a parte perché ma in queste partite abbiamo quelle leggere ma bisogna vedere però con quelli grandi come la juventus come l'inter come in napoli come roma come lazio e come l'antarlanda che sono già cinque di questi sono quelle toste sono quelle torse che mi fa veramente paura quindi io spero che andiamo avanti avanti ancora tutta in questa diciamo in questa corsa sperando che andiamo avanti sempre così sperando che andiamo avanti in questo modo tanto il nostro obiettivo non è tanto vincere lo scudetto ma più che altro almeno il quarto posto per per la cebbi osliga almeno il quarto posto solo questo noi ci contentiamo non è che doveva condentare poi dello studio da quasi arriviamo lo scudetto ancora meglio ancora meglio cioè io sono molto felice ma sei già molto felice se arriviamo al quarto posto questo è quanto per i quanti invece calciomercato parlavo prima di a un jack che aveva fatto il secondo gol nella partita in europa league diciamo che il milano proprio adesso lo ha comprato per 4 milioni di euro più due bonus quindi diciamo un'operazione facilissima più che altro e quindi anche il giocatore stesso ammesso che vuole venire dal milano dopo a dopo la sconfitta insomma anche perché lui e lui stesso ha detto ma che io che ci vado a fare qua cioè io gioco solo per perdere tempo e così ha accettato di venire con noi dopo la sconfitta contro di noi cioè quindi quindi mi fa piacere di prendere questo giocatore perché diciamo ci ha messo un po le corde adesso invece dalla parte nostra è nemmeno di un rinforzo però una cattiva invece notizia è proprio questa ma purtroppo purtroppo il paese al germen ci ha beffati ha preso baccaiocco sempre che ormai ci ha già beffati il paese al germen perché il paese al germen da ha preso baccaiocco con 7 milioni per un prestito oneroso con diritto di riscatto a 16 milioni di euro ma cioè che poi a beh però dalla parte ci ha aggiunto pure i 8 milioni di bonus quindi complessivo di 31 milioni di euro però ma io vorrei dire una cosa no ok c'è sì tu l'hai valutato per 30 milioni no noi però diamo un offerto un paio di milioni per cioè per poi 20 milioni di riscatto ma perché non lo potevi fare cioè vabbè a parte perché siamo pure come di noi che non abbiamo messo qualche bonus c'è i 10 milioni di bonus per dargli le 30 io vi dico la verità ragazzi io i 30 milioni di euro cioè per l'ascensione c'è futura l'avevo pure preso non è quello il discorso però noi abbiamo diciamo puntato sul prestito perché noi non è che avevamo diciamo non so dire non avevamo otto il fatto che non avevano tanti soldi anche se ora è vero che forse parquetà va al lione però rimane sempre fatto che noi non è che abbiamo tanti soldi da spendere e anche questo tu però adesso non l'hai dato al pari saint germen che deve da 7 milioni euro più e poi il diritto di riscatto a 16 ma come li fai questi godi ma come li fai cioè io guarda non lo so io ci sono rimasto basito ci sono rimasto basito che poi dal lato tu hai sissito tanto nel diciamo di cedere baccaiocosti ma non per il prestito ma più che altro per l'accensione definitiva ma scusami nato ma che ragionamento è questo che tu apparese già mai per il prestito lo dai a noi invece no perché lo vuoi cessione definitiva cioè guarda io non lo so ma io non lo so cioè questa è la cosa che mi dà fastidio è la cosa grande mi dà fastidio ma ma io non ho capito cioè volevi 30 milioni euro ma allora perché hai puntato tutto più sulla censione e non per un prestito che danno è la stessa cosa se l'avessi troppo comunque di mezzo tanto tu a di voi avete avete sempre detto che poi da progetto e così via mandatelo a noi allora in questo modo perché tanto a che serve cioè vendola a 30 milioni di euro quando poi già in fuori progetto ma perché c'è ma ma almeno uno scondo non perché non ho potuto farlo oppure magari il milano poteva farsi fare anche credo poteva anche aspettare che prima si vedeva a paquetà e poi magari avevo messo anche dei bonus addirittura forse forse a meno ci si poteva trovare l'accordo invece no la era da paese angel man che aveva nato c'era fatto un come posso dire un'offerta leggermente inferiore alla nostra ma io ma ma come come si fa ragione questo ma come si fa ma come si fa cioè guarda io non ho parole non ho parole su questo non ho parole non ho parole guarda io ci sono rimasto male io spero che bacca io quando arriva quello questa dice di noi invece di di sì io spero io spero così io bacca io ti prego ti prego dici di no a parisi e germane perché tu vuoi il milan non in parisi e germane ti prego e fai questo cioè ti accoglio a braccia aperte ti accoglio a braccia aperte ti giuro ti giuro perché tu sei stato diciamo in il nostro giocatore fondamentale c'è quell'anno lì è vero che la vabbè c'è stato grattuso ma quello è un altro discorso di mano però tu sei stato il miglior giocatore in quell'anno vada giuro non ti sto dicendo subitaggine è la verità è la pura semplicemente della verità tu eri il pilastro del centrocampo ti giuro quindi ti prego se dici di no a parisi e germane ti faccio degli applausi veramente pesanti che non è l'idea c'è di con gli abbracci aperti vabbè per ora io con questo video si conclude qua come sempre lasciato un bel like su questo video e noi ci vediamo ai prossimi video e pazza mila ciao 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 ciao